Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Quale è quella bella? Quale è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Quale è buona? Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? E qual è la bambola che ti somiglia di più? E qual è la bambola che ti somiglia di più? Qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nera. Perché ti offendi? Mi ho infendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello sto mi sta guardando storto. Buona. Ciao.